Italiano Bello. Storie e letture in italiano. La storia del coniglietto pasquale. Un coniglietto vive in una grande fattoria. Il contadino ha una moglie molto gentile e tanti bambini. I bambini giocano sempre con il coniglietto e lui si diverte molto. Un giorno di primavera, qualche giorno prima di Pasqua, il coniglietto ha un'idea. Vuole fare un regalo di Pasqua ai bambini, ma non sa che cosa. Allora vada al cane. Cane, che cosa posso regalare ai bambini? Che ne dici di un osso? Gli ossi sono molto buoni, dice il cane. Ma gli ossi sono molto duri, non è un buon regalo. Poi vada alla pecora. Pecora, che cosa posso regalare ai bambini? Che ne dici di un po' di lana? Puoi fare un berretto, dice la pecora. Ma il coniglietto non sa fare berretti. Inoltre, ora fa troppo caldo per un berretto di lana. Poi vada alla mucca. Mucca, che cosa posso regalare ai bambini? Che ne dici di un po' di latte fresco? L'ho appena fatto, dice la mucca. Ma i bambini bevono latte tutti i giorni, non è niente di speciale. Infine, vada alla gallina. Gallina, che cosa posso regalare ai bambini? Che ne dici delle mie uova? Sono deliziose e molto nutrienti. Questo è un buon regalo. Ma le uova sono completamente bianche e non sono molto belle. Allora va nella cameretta dei bambini e inizia a dipingere le uova. Adesso le uova sono molto più belle. La vigilia di Pasqua, il coniglietto mette le uova colorate in un cestino. Poi mette il cestino in giardino, davanti alla porta, per fare una sorpresa ai bambini e va a dormire soddisfatto. Ma quella notte c'è un forte vento e la mattina le uova sono sparpagliate per tutto il giardino. Che disastro! Ma i bambini sono felicissimi di cercare le uova. È un bel gioco! E da quel momento, a Pasqua, il coniglietto nasconde sempre delle uova colorate in giardino. Per i bambini.